Antonio Teti, responsabile dei sistemi informativi e innovazione tecnologica dell'Ateneo d'Annunzio e docente di Cyber Intelligence. Dunque è in atto questa operazione militare da parte della Russia e di Putin nei confronti dell'Ucraina. Come si sta combattendo questo nuovo conflitto? Sicuramente questo conflitto si sta combattendo con l'utilizzo di strumenti tecnologici, in particolare di strumenti di alta tecnologia, che si basano sull'utilizzo di droni, dei cosiddetti velivoli senza pilota, ma in questo caso la Russia sta utilizzando dei droni particolari muniti di sistemi di intelligenza artificiale. Quindi si tratta di velivoli senza pilota che non hanno neanche la necessità di essere pilotati a distanza dai cosiddetti operatori dei droni e gestiscono, grazie a queste piattaforme di intelligenza artificiale, gestiscono automaticamente, autonomamente la missione. Quindi si indirizzano verso il bersaglio, possono decidere di cambiare rotta, possono decidere di ingaggiare, come si dice in gergo militare, il bersaglio in maniera diversa e una volta completata la missione possono rientrare alla base completando tutto il ciclo operativo. Naturalmente questi droni possono compiere missioni di tipo diverso, quindi missioni di ricognizione, di attacco al suolo e in questo caso naturalmente le operazioni che stanno conducendo sono quelle tipicamente di attacco al suolo, quindi di bombardamento. Oltre a queste tecnologie naturalmente la Russia sta portando avanti anche delle operazioni in campo cyber, quindi parliamo di cyber war, di guerra cibernetica, e attraverso dei malware, degli applicativi maliziosi come vengono definiti in gergo, attraverso questi software stanno attaccando anche diversi sistemi informatici del governo ucraino. Tra questi appunto il famoso malware wiper viene utilizzato proprio per introdursi all'interno dei sistemi informatici, provocando semplicemente un'unicazione, cioè quella di cancellare tutti i dati, file presenti all'interno dei diversi sistemi informatici. A livello di cyber security siamo al sicuro? No, nel mondo cyber, quando si parla di cyber war, nessuno è al sicuro. Infatti sono stati attaccati alcuni siti russi da parte del noto gruppo Anonymous, quindi questa è una guerra invece che si combatte quotidianamente e che magari non produce quel clamore, quella risonanza che può avere. Naturalmente è un conflitto bellico che produce purtroppo vittime umane, di esseri umani, però è allo stesso tempo un sistema di guerra che può annientare anche le stesse difese di un paese fino anche quelle delle infrastrutture critiche. Quindi dobbiamo rimanere sempre in un contesto di allerta e potenziare le difese, ma quando si parla di cyber war nessuno è sicuro.